Adesso ridiamo e scherziamo perché stamattina ho una paura c'era Rocky che è stato malissimo e non capiamo che cosa avessero la zampetta così sempre zero ansia vorrei io ho visto il cane con la lingua di fuori che non reagiva più quindi stavo morendo e cominciò a chiamare tutte le cliniche, tutti i veterinari qua non mi rispondeva nessuno quindi ho detto lui che l'hanno avvelenato ho capito il cane stava male vieni qua amore comunque riesco a trovare un veterinario e lo porto e hanno detto che il cane era maleducato che bisognava educarlo perché non si faceva toccare e fare la puntura e gli ha zannato poi ha cagato tutto addosso no, ma che mi hai fatto? io devi fare sentire odore di stava ieri no, grazie e lui ha detto tu tratti il cane come dei figli che dici che non è vero come si permette a dire che il mio cane è maleducato vieni qua nipotini, la vostra zia è molto sensibile agli animali per fortuna che alla fine si è risolto tutto bene per Gwendalina e Rocky ciao ciao